Il Due Torri non riesce a capitalizzare la superiorità territoriale e non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Sarnese, subito Marino che scalda il destro con la mira troppo alta poi la punizione da lontanissimo risponde presente un ottimo Sorrentino che sarà protagonista della partita Postorino fa tutto bene dal vertice sinistro, il dribbling poi il tiro è debole e non ci sono problemi per Sorrentino Ci prova ancora il Due Torri che spinge tantissimo, nel primo tempo Acquaviva il suo fendente è di poco al lato poi un'ottimazione corale allo scadere del primo tempo per il Due Torri con Marino il pallone per Scolaro, quindi il passaggio per Petrullo che viene fermato in posizione di fuorigioco che sembra davvero non esserci, ci sono le proteste dei giocatori delle Due Torri per l'intervento dell'assistente che ha in pratica fermato un gol già fatto con il montaggio siamo nel secondo tempo qui esce bene il portiere di casa Ingrassia per sventare la minaccia Peter Resi da lontanissimo sulla traversa un fendente davvero micidiale quello di Peter Resi che trova il legno il Due Torri prova il break a metà campo Cicirello ancora da lontano, la parata plastica di Sorrentino poi sulla ribattuta si avventa Giacobbe il pallone in aria il tiro ed il colpo con il braccio probabilmente per il difensore del Sarnese anche in questo caso l'arbitro lascia parecchi dubbi qui viene espulso il giocatore ospite Gabbiano per questo fallo secondo cartellino giallo ma servirà a poco la superiorità numerica ai giocatori del Due Torri negli ultimi minuti con il direttore di gara che poi non consente la battuta del calcio d'angolo e decreta la fine dell'incontro il Due Torri chiude sullo 0-0 e deve accontentarsi di un solo punticino grazie a tutti